musica musica qualsiasi cosa faccia per lui io ho sempre cattive intenzioni questo perchè niente mai abbastanza per te perchè t'ha pas de bureau? perchè t'ha voitura pas de toi? perchè t'ha cuisine n'è qu'un mur de whisky? stavo solo cercando di interessarmi alla tua vita ne grimes in quick music video bonadier eeeh credo proprio di aver percepito un certo barítono che cantava più forte barítono e tenore e non posso evitare quando oigo musica tu lo sabes e per questo è che lo haces per questo è che lo haces time out ciao ah senti riguardo a quello che tu hai detto ieri sera boi inda invece credo che ne ho no, veramente inda c'è un po' standa e sarebbe? che io mi odeio non so davvero come interpretarlo ma non mi sembra una cosa buona è chiaro che è detetive todas le sessioni con la dottora linda erano sobre esplorare la negazione in cui vivia ma io superei questo io avevo una epifania demoniaca sincera ora tutti i miei problemi devono, sai, desaparecer beh, abbiamo un nuovo caso ma voglio parlare di tutto questo più tardi vado a prendere le chiavi certo io ti amo ti amo ti prego non te ne andare ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo Senti, Chloe. Hip sand.